Si terrà domattina presso la prefettura di Sernia l'esame delle domande pervenute da privati che intendano aprire e gestire sul territorio della provincia CAT, ovvero centri di accoglienza temporanea per migranti. Al vaglio dell'ufficio prefettizio le 20 domande pervenute. Come noto tali strutture saranno localizzate in quei comuni che non hanno aderito allo SPRA, il servizio attivato dal governo per la protezione dei richiedenti asilo e rifugiati. I numeri complessivi per il 2017 si attestano a 1.100 migranti da ripartire nei comuni della provincia, un numero ridotto di qualche centinaio di unità rispetto a quanto previsto inizialmente in forza dei nuovi accordi tra Italia e Libia. Leggiamo dal Corriere della Sera di oggi dell'intesa europea siglata proprio con la Libia che prevede centri e finanziamenti al paese nordafricano per la gestione in loco dell'accoglienza. Tornando ai CAT sul territorio Pentro emerge il dato di Isernia. Il comune in cui il dibattito e le relative polemiche sulle eventuali adesioni allo SPRA vanno avanti da mesi accoglierà 266 migranti rispetto agli attuali 250. In caso però di un sensibile incremento degli arrivi, secondo quanto si evince dalle disposizioni della prefettura, il numero di migranti in quella città potrebbe essere incrementato fino a 100 unità in più. I comuni che invece hanno aderito allo SPRA anche in quella evenienza beneficeranno della clausola di salvaguardia, ovvero dell'applicazione della direttiva del Ministero dell'Interno che li rende esenti dall'attivazione di ulteriori forme di accoglienza. Nonostante la questione sia molto dibattuta tra favorevoli e contrari a tale misura, l'adesione allo SPRA dovrebbe quindi consentire ai comuni aderenti di bloccare le quote dell'accoglienza a prescindere dall'incremento dei flussi degli arrivi.